Ciao a tutti, oggi torniamo a parlare di informatica e in particolare di retrocomputing, non che io sia un grande appassionato di retrocomputing, però insomma ho una certa età, a volte l'effetto nostalgia si fa sentire. Fatto sta che per il mio lavoro ho spesso a che fare con computer e attrezzature informatiche nuove e vecchie e in particolare qualche mese fa stavo facendo un po' di pulizia in magazzino, buttando via ciarpame vario e mi saltano fuori però alcuni pezzi che mi dispiaceva obiettivamente buttare via perché mi sembravano interessanti, allora li ho tenuti da parte, poi piano piano me li sono ripuliti, sistemati, ho creato un piccolo angolino museo in ufficio e ve lo faccio vedere. Parliamo di oggetti che non sono di particolare valore, ecco non è che ho il primo Macintosh firmato da Steve Jobs, parliamo comunque di macchine di 30 anni o più fa, quindi comunque un po' di rispetto se lo meritano. Allora abbiamo innanzitutto questi modem sempre dell'epoca, si capisce perché sono ancora marchiati SIP, società che non esiste più dal 96. Abbiamo poi il pezzo forte della collezione che è questo computer Olivetti M250e del 1990, quindi ad oggi 34 anni di computer e questo è un 286 a 12 MHz perché c'era prima l'M250 che era dell'anno prima ed era a 8 MHz, sempre un 286, poi nel 90 è uscito la versione E a 12 MHz, quindi grande passo avanti. Questo computer ha 4 MHz di RAM e sottolineo MHz, non GB, ha credo 20 MHz di disco fisso, lettore di floppy disk da 3 pollici e mezzo già, ha la sua tastiera originale. Il monitor non è quello originale, però ne ho messo uno molto simile, anche questo trovato in giro. Il problema di questo computer è che non funziona al momento e non funziona perché è guasto l'alimentatore. La scheda madre è a posto, stranamente, perché molti di questi computer ho letto che hanno problemi con la batteria tampone della scheda madre che è saldata sulla scheda e che col passare degli anni spesso butta fuori l'acido che va a rovinare le piste della scheda e quindi game over. Questo invece è bello pulito, ha anche funzionato se è acceso per un minuto o due, quindi ho visto che comunque la scheda è a posto, poi però l'alimentatore ha cominciato a fare dei rumori, è morto. Io purtroppo non ho le capacità per andare a testare i componenti dell'alimentatore, sostituire quelli guasti. Al momento non sono riuscito a trovare qua in zona nessuno che fosse capace di farlo, che comunque potesse farmi il lavoro in amicizia o spendendo poco, perché non è che ho intenzione anche di spenderci dei soldi per delle macchine che comunque non sono le mie. E quindi è fermo lì. L'altro computer è invece un pochino più recente perché è del 94, quindi 30 anni giusti. è un assemblato, perché a questo punto esistevano già i computer assemblati, è un 486 questo, a 40 MHz, sempre con 4 MB di RAM, a 80 MB di disco fisso e sempre il lettore di floppy disk. Questo è completo con la sua tastiera, con il suo monitor, che è un monitorino, ovviamente sempre CRT in bianco e nero, tra l'altro, sarà 12 pollici, 14 pollici, non so, comunque proprio piccolino. Nonostante il computer abbia una lussuosissima scheda video VGA a 16 colori, però il monitor è in bianco e nero. Tra l'altro questo era un computer, vedete, marchiato AGI, quindi era dedicato alla ricezione delle notizie dell'agenzia giornalistica e addirittura il monitor ha ormai sovrimpresso, stampato, marchiato sopra l'interfaccia del programma che visualizzava le notizie. Questo funziona, ci ho messo un po' a rimetterlo in piedi, però sono riuscito a farlo funzionare, ho dovuto cambiargli la batteria tampone sulla scheda madre perché quella che aveva era scarica, quindi dava sempre degli errori in fase di boot. Una volta sostituita e impostato il BIOS, è tutto a posto. Il problema più grande nel farlo ripartire è stato il fatto che questo ha appunto solo il lettore di floppy disk. Quindi per poterci mettere su il software, dovevo usare software su floppy disk. E vallo a trovare un computer moderno con un lettore di floppy disk. Non esistono e quindi mi sono dovuto comprare un lettore di floppy disk esterno con interfaccia USB da attaccare al mio computer. E non è stato facile neanche trovare i floppy disk. Fortunatamente in mezzo a tutte le cianfrosaglie ne ho trovato una scatola ancora sigillata, nuova e qualche altro sparso. Quindi non tutti funzionano, però una ventina di floppy funzionanti sono riuscito a metterli insieme e poi mi sono scaricato i programmi e li ho stellati qua sopra. Quindi MS-DOS 6.22 e alcuni programmini così per provare anche perché non è che ci potesse girare più di tanto. Ho messo un Word Microsoft 5.5 mi pare. Quindi ci si può fare un po' di videoscrittura e ovviamente ho perso anche qualche videogioco. Anche qui di nuovo quello che ci può girare non è tanto. Ci ho messo qualche avventura testuale, i vari i primi Zork, insomma è su un Tetris. Ma la domanda che ci facciamo tutti ovviamente è ci gira Doom? La risposta purtroppo è no. Ci ho provato. Almeno la versione standard non ci gira perché richiede almeno 3,7 MB di RAM libera e questo evidentemente non ci arriva. Penso di poco ma non ci arriva. Quindi niente Doom però ci gira benissimo Wolfenstein 3D. Questo l'ho installato e ci gira senza problemi. Qui lo vediamo sempre in bianco e nero appunto per il discorso del monitor, non della scheda video. Il computer non ha neanche una scheda audio quindi i suoni che sentiamo provengono dallo spernacchiatore interno del pc e il rumore di fondo del computer abbastanza fastidioso curiosità non proviene come pensavo dalla ventola dell'alimentatore unica ventola presente all'interno della macchina ma è il rumore che fa il disco fisso perché anche se dai test che ho fatto non ha settori danneggiati e sembra tutto a posto. Probabilmente ha qualche problema con i cuscinetti perché fa un rumore abbastanza fastidioso. Addirittura ha bisogno di scaldarsi un po' per cominciare a funzionare perché il computer acceso a freddo non vede il disco. Se poi si aspetta un minutino che si scalda un po' appunto si fa un reset e allora parte normalmente. Vediamo, speriamo che regga anche perché un altro disco fisso con interfaccia IDED poter montarci dentro non ce l'ho. E niente questo al momento è tutto quello che ho, fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi siete interessati o appassionati di retrocomputing e noi ci si vede alla prossima. Ciao a tutti!